Bene, ed è giunto il momento di ritornare a percorrere il nostro viaggio alla scoperta degli ordini e degli istituti, delle consacrate e delle secolari che arricchiscono il mondo, la vita della Chiesa e qui con me, come anticipato, in via del tutto straordinaria c'è la nostra inviata speciale, Sor Maria Vittoria. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, bentrovata. Come stai? Bene, grazie, grazie. Allora, io ti ringrazio a nome di tutto a Padre Pio TV per il prezioso lavoro che stai svolgendo perché, come abbiamo detto, ci siamo detti tante volte a microfoni spenti, dietro le telecamere, ci sono tante donne che arricchiscono e impreziosiscono quotidianamente la vita della Chiesa ma di cui si racconta poco. Con questa rubrica fortemente voluta dal nostro responsabile Fran Nicola dobbiamo dire che stiamo facendo un bel viaggio alla scoperta di storie straordinarie e oggi proseguiamo su questa scia. Quindi ti lascio la parola ma sono qua al tuo fianco per supportarti. Grazie. Ecco, oggi con noi l'è consacrata appunto Laiche Serve della Sofferenza, fondate da... Don Pierino Galeone. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, è bello oggi perché abbiamo un altro figlio spirituale che ha fondato questo vostro istituto e vogliamo un po' sapere chi è Don Pierino e chi siete voi? Ecco, se ci potete raccontare un pochetto. Certo, con molto piacere. È sempre molto bello raccontare quello per cui uno ha dato la vita, no? Quindi siamo contenti e vi ringraziamo anche di aver pensato a noi. Il nostro fondatore, padre fondatore, si chiama Don Pierino Galeone. È un sacerdote della diocesi di Taranto. È vivo e ci supporta, continua a supportarci qui con noi. Lui ha conosciuto Padre Pio quando era un giovane sacerdote e un giovane seminarista. Una storia molto particolare. Stava per essere messo fuori dal seminario perché aveva la tubercolosi che a quell'epoca era una malattia un po' troppo grave e troppo rischioso rimanere insieme agli altri. Lui però voleva fortemente diventare sacerdote e la sua mamma, raccogliendo proprio il desiderio del figlio, lo mandò qui a San Giovanni Rotondo da un frate che faceva miracoli, non ben specificato. Questo frate era Padre Pio, lo mandò con una persona notabile del suo paese che è San Giorgio Ionico. Quando Padre Pio lo vide, gli mise una mano sul petto e gli disse tu di tutto morirai tranne che di qui. Infatti è vero perché il nostro padre ha 97 anni e non è malato di tubercolosi. Lui stesso ci racconta sempre che in quel momento fu guarito fisicamente ma soprattutto fu toccato. nell'intimo, nelle sue fibre più intime, tanto che si è sentito da quel momento in poi legato in maniera indissolubile a doppio filo a Padre Pio. Quindi iniziarono le sue frequentazioni, veniva qui, è diventato sacerdote, è continuato a portare qui ragazzi, giovani perché additava a questi ragazzi l'esempio del frate del Gargano e poi piano piano in questa frequentazione è venuto fuori il desiderio di Padre Pio che ha confidato proprio al nostro padre, Don Pierino, di raccogliere cioè delle anime intorno a sé che vivendo nel mondo potessero continuare la sua missione, la missione stessa di Padre Pio. E così siamo noi. L'istituto inizia a muovere i primi passi nel 1957 con la consacrazione delle prime ragazze, della prima donna che poi era una ragazza che noi consideriamo la nostra madre confondatrice e poi da lì via via tanti ragazzi che si avvicinano, poi diventano sacerdoti, tanti giovani, tanti giovani. Così l'istituto inizia il suo cammino e nel 1993 abbiamo la prima approvazione, quella diocesana. Adesso l'istituto è diffuso in tutto il mondo e ha una caratteristica importante, quella di essere un istituto secolare unico però con due sezioni, maschile e femminile. All'interno della sezione maschile anche i sacerdoti. Quindi abbiamo proprio il popolo di Dio che continua la missione di Padre Pio. Ultimamente da qualche anno ci sono anche le famiglie, persone, famiglie, giovani o meno giovani che vivono lo stesso carisma ovviamente nella vita matrimoniale, nel matrimonio. E così arricchiamo, portiamo il Vangelo e portiamo l'esperienza di Padre Pio nel mondo. La secolarità può essere considerata la nostra caratteristica fondamentale. Quello cioè di essere, come dice il Papa, lievito nella massa. Non abbiamo un abito, abbiamo un lavoro civile e ci sforziamo appunto di animare il divangelo, di contaminare, come si dice adesso, contaminare le realtà del mondo con il Vangelo, con lo spirito del Vangelo. Maria Stella, allora ci puoi dire concretamente come realizzate questa missione, questo carisma di Padre Pio, no? Perché non è molto facile, no? No, decisamente. Come lo fate? Viviamo nel mondo col cuore di Dio, diceva qualcuno, no? Quindi noi praticamente ci sforziamo di vivere le nostre giornate facendo la volontà di Dio con gioia e offrendo i momenti di dispiacere e di sofferenza a Dio, unendole alle sofferenze di Gesù e santificando così noi stessi e gli altri. Come amava ripetere Padre Pio, santificati e santificano e quindi questo è quello che ci sforziamo di fare ogni giorno. Vivere la volontà di Dio, fare bene il nostro lavoro e portare, mutare, dicono le nostre costituzioni, mutare la croce e con essa ogni sofferenza da tristezza in gioia, da vergogna in banto. Da condanna in perdono. Da condanna in perdono. Quindi unite le vostre sofferenze alla passione di Cristo per sollevare anche gli altri. I fratelli, sì. Siamo, il nome del nostro istituto è proprio Servi della Sofferenza. La sofferenza diventa un servizio, cioè la sofferenza che è privazione, no? Chi è malato manca di salute, chi è povero manca di soldi, sono tutte persone che soffrono. La sofferenza però da Gesù è stata redenta, cioè Gesù ha dato alla sofferenza il bene che mancava. Noi unendoci a Gesù in maniera spirituale, che poi concretamente vuol dire quello che diceva Veronica, facendo giorno per giorno, momento per momento, quello che la vita ci chiede, il nostro lavoro ci chiede, unendoci a Gesù facciamo in modo che i beni che lui ha recuperato servano ai fratelli che ne hanno bisogno. È un carisma spirituale. È speciale perché non è il primo istituto che noi stiamo interpellando, stiamo conoscendo, no? Che abbiamo anche conosciuto altri che derivano da questa spiritualità. È quello che notiamo noi, qua anche Tony ha avuto questa possibilità di notare, che Padre Pio attraverso la sua vita ha trasmesso questo valore della sofferenza, no? Il sollievo della sofferenza attraverso la propria vita quotidiana. Ed è bello questa spiritualità che nel mondo di oggi magari è un po' respinta, però è bello anche far vedere e far conoscere la preziosità del momento presente e della sofferenza stessa, no? Che unita alla passione di Cristo ha un grandissimo valore. Ecco, bello. Quando, se posso solo aggiungere una cosa, San Giovanni Paolo II ci ha ricevuto in udienza privata qualche mese prima di morire, quattro mesi prima di morire. Lui è morto ad aprile e la nostra udienza è stata a dicembre. E lui ha detto una cosa che mi è rimasta sempre impressa. Lui diceva, nella nube di dolore fisico e spirituale che avvolge il mondo, voi dovete essere silenziosi cirenei che accompagnano ogni uomo e gli dicono, ricordano a tutti che la sofferenza non è un male, ma Dio scrive tutte le lacrime di ogni uomo nel suo libro e non ne dimentica nessuna. Questo è il nostro compito. Bellissimo, veramente bello quello che hai detto, che avete detto, perché fa bene a tutti. Allora, io vorrei chiedervi, casomai adesso qualcuno ci guarda dai nostri spettatori, che avrebbe piacere conoscervi meglio, dove si potrebbe rivolgere una ragazza, un qualcuno, un ragazzo, no? Per conoscere meglio la vostra spiritualità, fermarsi con voi un pochettino, non so, potresti indicarci qualcosa? Certo, io vi dico qualcosa e poi lascio la parola a Veronica, che è responsabile della comunicazione. Intanto prego la regia di condividere il sito ufficiale dell'Istituto Secolare Servi della Sofferenza e vi invito ad essere più sintetici possibili perché siamo alle battute conclusive. Sì, semplicemente sul sito si trovano tutte le informazioni necessarie, ogni contatto, anche gli indirizzi mail e poi ci potete trovare anche sui social. Ecco, stiamo iniziando questo cammino anche della comunicazione social. E qui a San Giovanni siamo presenti al centro di spiritualità Padre Pio, che è un albergo, una struttura dove potete, chiunque voglia avere informazioni su di noi, ecco qui la regia ha condiviso il sito e potete spulciare sul sito loro, mettiamo le nostre attività che sono relative a quello che facciamo con i giovani, gli incontri vocazionali, gli incontri giovani. Magari qualcuno che viene qui a San Giovanni, che vorrebbe, diciamo, anche conoscervi, può venire anche direttamente al centro di spiritualità Padre Pio. Che è vicino proprio al santuario che può anche, si vede comunque dalla fermata. Molto bene, io ringrazio Veronica Forte e Maria Stella Lemanno dell'Istituto Secolare Servi della Sofferenza e Sor Maria Vittoria delle Apostole di Gesù Crocifisso per averle intervistate. L'appuntamento alla scoperta con gli ordini e gli istituti è per sabato prossimo, possiamo anticipare che sarà anche quello un viaggio molto bello. Svegliamo qualche particolare, Sor Maria Vittoria? Sì, allora prossimamente vi invitiamo tutti quanti a una visita speciale dalle monache clarisse. Che bello. Grazie di cuore a tutte voi, soprattutto per quello che fate quotidianamente, quindi l'augurio di un buon lavoro. Noi ci ritroviamo prestissimo, non andate via, ci fermiamo soltanto per qualche istante. Grazie. 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 Grazie.